buongiorno a tutti dello scolab sto pulendo la cisterna dell'autoclade l'autoclade quello che sentite sempre in sottofondo in alcuni video rumore di fondo sto usando l'aspirapolvere per soffiare aria all'interno del fondo praticamente della della cisterna così da risciacquare praticamente ecco qua vedete l'acqua è marrone praticamente questo è tutto il residuo che si è fissato sul fondo e con l'acqua praticamente sto operando con l'acqua insieme al soffiatore sto operando praticamente una polizia del fondo pare che funziona perché l'acqua che sta uscendo dal rubimento è sporchissima questo è tutto il residuo bene allo scolato qui si lavora sempre oggi per esigenze familiari perché l'acqua è indispensabile vi ringrazio alla prossima